Nuova Hyundai Tucson Full Hybrid. È qui, ancora più efficiente, grazie ai motori ibridi di ultima generazione e con un innovativo display da 12,3 pollici. Per fortuna che c'è Tucson. Nuova Hyundai Tucson Full Hybrid. Fino a 5.700 euro di vantaggi grazie all'eco bonus statale, con rottamazione e finanziamento Hyundai Plus. Scoprila nelle versioni plug-in, full e mild hybrid. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 luglio, fino ad esaurimento fondi. Scopri info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it Shady's back, Gesu's back, è tornato con Udini, è tornato ragazzi, quanto goduto con questo video dove fa questo confronto. Poi, cioè, è bello comunque rivederlo anche biondo nella modalità Slimy Shady, che a me piace pure col barbone, mi piace quell'immaginario, mi piace nel senso omosessuale del termine. Nel senso che è un immaginario che ci sta a lui, dopo tutto quello che ha passato, anche il discorso che non si trova da tanti anni. E quindi comunque quel look maturo, dopo aver toccato l'estremo, proprio a livello di immaginario con Slimy Shady l'ha toccato sotto ogni punto di vista. A me piace, comunque mi dà il senso, però è bello anche che Eminem un attimo ha detto, ha capito, mi devo svecchiare completamente. Devo un attimo ripartire anche da Slimy Shady, anche uccidendolo questa volta. Però, cioè, in senso, gli ultimi dischi li ha fatti uscire così, senza manca una promozione diretta, da un giorno all'altro, boom. Comunque tutta roba nel suo stile che vuoi non vuoi quando esce va primo in tutti i paesi e via dicendo. Però comunque in questo disco invece ci ha voluto dare tutto uno storytelling, ci ha voluto parlare nuovamente di sé in quel linguaggio che abbiamo conosciuto noi, che su MTV vedevamo When I'm Gone tutti i cazzo di giorni e ci domandavamo che fine avesse fatto quel personaggio lì. Cioè, che a un certo punto è in qualche modo sparito, per mille motivi. E adesso ci riattacchiamo a quel filone. E io ne sono molto contento e non vedrò di ascoltare questo disco, soprattutto se il primo singolo è questo. è una roba veramente da mettere in play, dalla prima traccia all'ultima, come si faceva con i dischi una volta e come faccio ancora oggi con determinati dischi. Io veramente non vedo l'ora, reputo Eminem un simbolo intramontabile, l'ultimo idolo l'ho definito in uno dei miei episodi precedenti. E per me tutto, è più di un padre a tratti perché ci ha cresciuto, ma allo stesso tempo lui riusciva ad essere sia tuo padre, sia tuo fratello e sia quello che tu volevi essere. Cioè, rappresentava te, rappresentava i tuoi disagi, rappresentava quello che volevi diventare, rappresentava tuo padre e in qualche modo ti rappresentava come figlio. Cioè, Eminem è stato per tutti noi qualunque cosa. E anche quello che non saresti mai potuto essere, perché se mi scegli, insomma, era follia totale. Poi lui ha fatto proprio dello suo storytelling di vita un qualcosa di veramente chiaro, noto a tutto, noto a tutti. Tra l'altro vi consiglio il video che ha fatto Barry, questo youtuber, su Eminem. Ve lo consiglio ovviamente perché parla pure della diatriba legale tra lui e la madre, la madre che a un certo punto gli fa causa. Cioè, molto tu sei diventato Eminem e tutti sanno che la mamma di Eminem è una stronza. E l'amma sono io. Quindi, alla fine ci ha ripreso tipo 25.000 euro, cioè una causa al figlio per il niente. Quindi, cioè, io sono per la difesa totale del diritto d'autore. Cioè, un artista deve avere la libertà di raccontare la propria vita privata a 360 gradi. E se poi ci fa successo, cioè, non ci puoi fare niente, devi solo stare zitto. Cioè, questo io la penso così, poi magari devo resistere dall'altra parte, è difficile perché è difficile pure accettarlo, no? Che comunque uno ti dipinge in un certo modo, però se uno si attiene al vero, no? Io credo che lì a quel punto bisogna ragionare come dice la legge. Cioè, se io ti calugno su una cosa non vera, tu puoi denunciarmi. Se io dico una verità, non puoi. E quindi questo è. Comunque, ci siamo, eh? Ci siamo, il disco è presto fuori. Slim Shady is back. Eminem is back. Appicciate le orecchie, ragazzi. Che qua ce n'è da imparare. Come si fa sta roba del rap. Non si è mai pronti all'inevitabile. Nessuno sa come comportarsi durante un incidente aereo, un terremoto o davanti a un'eruzione vulcanica. Io sono Valentina Poddige e questo è Mayday. Un podcast voice in cui vi racconteremo storie di persone che queste esperienze le hanno vissute per davvero. Persone qualsiasi, come me e te. Ascolta Mayday sulla tua app di podcast preferita.